Musica Anche in questa prima settimana di agosto stiamo a presentarvi le novità in uscita qui al Cineplex, il primo multisala di Bolzano. Primo film che esce questa settimana è un remake di un film del 1986 con Bart Maynolz. Il protagonista si chiama Nick. Nick è appena uscito di galera, si ritrova quindi senza un lavoro e deve insomma arrabattarsi per cercare di trovare qualche dollaro. La sua famiglia però è stata uccisa da un boss della mafia russa e lui questo non se l'ha dimenticato ma andrà proprio a lavorare per lui. Come prosegue il film ovviamente non sarò io a dirvelo, vi lascio al trailer di Joker Wild Card. Mi servono 500.000 dollari per comprare 5 anni di libertà, è il mio sogno da sempre. Me ne mancano 499.500. Blackjack. Chi è stato? Non lo so, erano in tre. Voglio vendetta, Nick. Si chiama Danny DeMarco. Io voglio stritorargli le palle! Qualcuno si è introdotto nella stanza 506 e ha pestato tre uomini. Un testimone afferma che quel qualcuno... ...eri tu. Stanno venendo a cercarti. Da un momento all'altro sarò morto. Morto? E quando? Adesso. Mi hanno steso, fatto saltare in aria, coperto di merda e mi hanno sparato. Tu sei un tipo violento, vero? Non violento. Però so esserlo. E anche il secondo film in uscita questa settimana è un film d'azione, sempre dall'America. Il protagonista si chiama Cam. Cam andrà a unirsi a una banda che fa piccole rapine, una banda che però fa anche parkour. Non capirà però fino in fondo la gravità delle azioni della stessa banda. Anche qui non sto a rivelarvi quale sarà il finale del film. Vi lascio al trailer di Tracers. Qualcuno ha visto Cam? Ma che fine hai fatto? Guarda, se quando ti serve... Cam! Ma dove l'hai trovato? Lui ha trovato me. Dove hai imparato il parkour? Lo sai, queste sono cose pericolose. Ti fai male se non sai quello che fai. Cerca di stare al passo. La vuoi? La paga o no? Devo guadagnare più soldi. C'è qualcuno che si è allenato. Devi sempre cercare di superare ciò che sai di poter fare. Non resti bloccato. E voi cosa fate? Tutto il possibile per non essere presi. Non siamo gente a caccia del brivido, pronta a qualsiasi follia. Facciamo le nostre ricerche, pianifichiamo. È un lavoro di squadra. Volevi entrare? Indovina. Sei dentro. Qual è il piano di fuga? Ti sei presa a gioco di me. Tu volevi entrare, Kama. Se troverò una via d'uscita, verrai con me. E queste erano le novità della settimana in uscita qui al Cineplex. Vi ricordo, 7 sale aperte, 7 giorni su 7, anche d'estate. Per avere ulteriori informazioni sui film, sui trailer, potete andare su www.cineplex.bz.it E a me non resta che invitarvi nuovamente a venire al Cineplex.